Conad, persone oltre le cose. Felicetti dal 1908. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì primo luglio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. E questa, almeno per quello che mi riguarda, è l'ultima puntata per questa edizione 2020-2021 di Mattino Insieme. È un po' oggi come l'ultimo giorno di scuola, tutti lo ricorderete, l'ultimo giorno di scuola. Ma anche in questa puntata, come nelle ultime puntate, cercheremo di riflettere sull'estate che ci aspetta tra ripresa e variante Delta. Come tutti i giovedì mattina, riflettiamo sulla prima pagina innanzitutto di Vita Trentina. Questa mattina con noi c'è Augusto Goio, che è giornalista, caporedattore di Vita Trentina. Buongiorno, 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 comunque è una puntata senza esame finale come l'ultimo giorno di scuola. Eh, me lo farai tu magari l'esame finale. Vediamo, poi giudicheranno i telespettatori. Esattamente, esattamente. Andiamo all'apertura che è, se d'estate un castello, vi siete occupati questa mattina del castello di Drena in apertura. Perché, Augusto? Abbiamo preso spunto con il nostro direttore Diego Andreatta che ha partecipato a un dibattito che si è svolto proprio tra le mura del castello di Drena nei giorni scorsi in merito proprio alle possibilità di ricostruzione per vedere appunto come tornare a far splendere questo castello che tre anni fa è stato oggetto di un crollo importante delle mura sono intervenuti a questo dibattito esperti, anche un intervento in collegamento di Vittorio Sgarbi ci sono diverse ipotesi, c'è la questione anche economica c'è stata una campagna di raccolta fondi che è nata proprio dalla popolazione della zona e quindi ci è sembrato veramente interessante andare a capire come si intende procedere lo vediamo anche con queste belle immagini di Gianni Zotta che fanno vedere anche il prima e il dopo del crollo i partecipanti a questo dibattito è un tema molto dibattuto, quello anche poi della ricostruzione, della conservazione dopo un episodio di questo genere naturalmente tra esperti ci si divide sulle ipotesi anche che esistono sperimentate da altre parti del mondo anche di una ricostruzione magari virtuale attraverso giochi di luci come ha accennato lo stesso Vittorio Sgarbi gli esperti sono appunto anche di opinioni diverse vedremo come e continueremo a seguire per i nostri lettori appunto quale sarà il destino di questo castello che rappresenta sicuramente per la popolazione, per gli amministratori una realtà importante sempre anche in quel discorso complessivo dei castelli del Trentino che rappresentano un fattore di punta anche di traino del turismo proprio trentino e nel titolo del giornale richiamiamo se vogliamo anche in maniera con un accenno anche a Italo Calvino con questo sede estate un castello e un castello che deve ridestarsi come titolo all'interno nostro direttore Diego Andreatta è sempre molto alto il dibattito sulla cosiddetta movida soprattutto in centro a Trento lo sapete che è stata diciamo così nominata la cosiddetta sindaca della notte è una tradizione che viene da grandi capitali europei la notte è giovane, ne avete parlato proprio con la giovane sindaca della notte si parla Giulia Casonato che è stata nominata dal sindaco Franco Ianeselli sindaca della notte come ricordavi tu Marco è un'esperienza che viene dai paesi del nord Europa questa giovane consigliera comunale letta nelle liste di futura si trova a gestire, si troverà a gestire e a mediare tra le diverse istanze portate avanti dai residenti con le loro legittime aspirazioni diciamo di una pacifica convivenza di poter trascorrere notti tranquille e le altrettanto legittime se portate avanti in maniera corretta istanze dei giovani in particolare degli studenti e mi pare che Giulia Casonato in questa intervista che invito a leggere intervenga in maniera molto equilibrata anche saggia nonostante la giovane età perché appunto sicuramente dice che si farà portavoce delle istanze di tutti una cosa interessante che possiamo anticipare è che Giulia Casonato non ritiene che spostare il divertimento gli spazi di socialità dei giovani fuori dal centro come anche è una delle ipotesi che è stata avanzata risolverebbe comunque la situazione e si tornerebbe probabilmente a un centro città come era prima degli anni 90 prima del grosso intervento anche urbanistico che con la pavimentazione nuova negli anni 90 riportò poi anche una bellezza nel centro città il titolo appunto si focalizza su questo aspetto il centro non va svuotato e adesso si tratterà di mediare appunto un compito non facile ma che vedremo come verrà portato avanti da questa giovane consigliera certo un ruolo lo ribadiamo sicuramente non facile quello di Giulia Casonato vedremo proprio quest'estate come andrà avanti come porterà avanti questo ruolo l'editoriale del direttore Diego Andreatta si rifà alla lettera che è stata distribuita nei giorni scorsi nei giorni di San Vigilio dall'arcivescovo Lauro Tisi ecco Diego che cos'è che ci dice nel suo editoriale di questa mattina prendendo proprio spunto dalla lettera che tradizionalmente il vescovo Lauro nel giorno del patrono San Vigilio pubblica e rivolge così alla comunità ecclesiale e non solo interviene su alcune questioni chiave di questo periodo prendo spunto proprio dal titolo di questa lettera Occhi che invita appunto a cogliere appunto in questo elemento che è rimasto visibile dietro le mascherine e anche ora che le mascherine finalmente possiamo cominciare a toglierle negli spazi aperti è un invito comunque a guardare a questo nuovo modo di relazionarci a una relazione che si attenta all'altro si tratta come sottolinea Diego Andreatta ora di avere un tempo per ricucire le relazioni che questo tempo di pandemia ci ha costretto proprio a rallentare con questo distanziamento è un tempo come sottolinea anche il vescovo Lauro in questa lettera di una fiducia reciproca e l'invito che fa Diego Andreatta il direttore è andare a cercare anche esperienze concrete appunto in cui le relazioni sono tornate ad essere significative queste non mancano e lo vediamo anche nelle pagine interne penso alla pagina che dedichiamo alla giornata che si è celebrata il 26 giugno di lotta alla droga e al traffico illecito di sostanze che richiama anche in questo caso un'attenzione al mondo giovanile un bisogno di relazioni di cui ci parla il presidente come vediamo nella pagina il presidente della federazione italiana e comunità terapeutiche che nei giorni precedenti alla giornata mondiale di lotta contro la droga era stato a Trento per inaugurare una significativa nuova realtà di accoglienza aperta dal centro trentino di solidarietà che il 26 giugno nella giornata appunto di lotta contro la droga ha organizzato una camminata proprio per ribadire l'importanza di un'attenzione a questi temi che anche nel periodo della pandemia sono stati lasciati un po' sotto tono anche dalla politica e proprio chi si occupa tutti i giorni delle dipendenze che non sono solo le sostanze che magari vengono spacciate sulle piazze e che ci danno magari più fastidio perché rappresentano un po' l'aspetto più visibile sono una serie di dipendenze in questo mi leggo anche al discorso della cosiddetta movida dipendenza dall'alcol oggi chi si occupa di questi problemi sa che molto spesso abbiamo a che fare con dei problemi che sono legati all'uso, all'abuso di più sostanze quindi un ripartire dalle relazioni e il tavolo inter-ecclesiale delle dipendenze di cui anche Squillacci è espressione sottolinea una serie di punti che evidenziamo nel nostro servizio proprio per riportare l'attenzione della politica, degli amministratori ma direi di tutta la comunità su quello che vuol dire questa domanda questa ricerca delle sostanze non fermandosi diciamo all'aspetto securitario della repressione che pure ha un suo perché ma proprio andando a cercare di rispondere a quella domanda di senso che anche l'abuso di sostanza dopo tutto porta dentro di sé non possiamo non ricordare questa mattina la figura di Francesca Ferrari l'abbiamo visto anche prima nell'articolo tu come la ricordi Francesca Ferrari che se ne è andata così in punta di piedi direi ecco vedete l'ascito di Francesca Ferrari questo ci ricollega appunto a quello che stavamo dicendo Francesca Ferrari è stata una personalità che per Trento per il Trentino direi anche ha lasciato molto l'abbiamo ricordato andando proprio a rileggerci dei suoi interventi delle sue considerazioni che aveva fatto in passato sulle pagine del nostro settimanale e l'abbiamo voluto sintetizzare in quel titolo unire le forze e appunto non essere passivi accumulare speranza parole che sono più che mai attuali oggi proprio per i discorsi che facevamo prima quindi un'attenzione ai giovani ai più fragili ai poveri che Francesca Ferrari aveva cominciato diciamo appunto con il discorso delle dipendenze nell'81 con l'associazione famiglie tossicodipendenti ma poi aveva così espresso con questa sua sensibilità particolare anche in altre realtà penso alla realtà di Trentino Solidale appunto allargando lo sguardo proprio alle fragilità che anche nel nostro territorio non mancano il prossimo fine settimana ci saranno degli eventi molto importanti per quello che riguarda Santa Paolina e ovviamente questi eventi saranno concentrati nella sua terra natale e cioè Vigolo Battaro ma non solo sì Santa Paolina è una figura di una donna eccezionale che viene ricordata nel fine settimana perché proprio 30 anni fa fu proclamata beata e successivamente appunto è stata proclamata anche santa e in occasione della festa liturgica di Santa Paolina Visintainer il suo paese natale che è Vigolo Battaro appunto la ricorderà è un'espressione di una donna che seppe esercitare in maniera esemplare anche la carità e fu una grande organizzatrice come la ricorda Carlo Obridi in questo in questo articolo una donna equilibrata e ricca anche di quel buonsenso contadino che la portava a guardare anche i problemi complessi del suo tempo anche con un sano pragmatismo e questa figura che è davvero venerata in Brasile come ho avuto modo di constatare nei due viaggi che ho avuto modo di fare per andare a trovare i missionari trentini in quel grande paese latinoamericano è veramente una figura che per quel paese per i fedeli di quel paese vuol dire ancora oggi davvero molto prima di salutarti e prima di quello che in apertura definivi l'esame finale Augusto che cosa è che appunto volevi raccontarci che cosa mi sono dimenticato in questa veloce rassegna stampa ma segnalerei rapidamente per le valli a Rovereto il racconto del video che è stato realizzato da Greta una bambina che soffre di SMA e che con l'attrice rovretana Erika Zambelli in arte guenda e il coro Sant'Ilario ha realizzato un video che servirà per una raccolta fondi anche per adattare meglio l'appartamento dove vive questa bambina e è un'esperienza un video che comunque ci richiama proprio a quel messaggio di speranza a cui ci invitava anche ci invita anche la lettera di San Vigilio del Vescovo Laurotisi e proprio in chiusura il 3 luglio un anniversario quello di Alex Langer una figura di tessitore di pace e di relazioni torniamo a questa parola tra i popoli tra le diverse espressioni di popoli e linguistiche viene inaugurato a Sarajevo un sentiero escursionistico in suo nome e ricorda questa figura anche Paolo Valente nella sua rubrica Bolzano chiama Trento grazie grazie infinite ad Augusto Goio e chiaramente lo ringrazio per tutto il percorso che abbiamo fatto in questi lunghi e diciamo anche difficili mesi insieme tutti i giovedì mattina l'esame finale allora Augusto l'esame finale direi che è superato e credo che comunque ricordare questi mesi difficili credo che l'informazione Trentina in generale abbia fatto un buon lavoro una buona comunicazione e quindi l'esame è superato anche per te Marco grazie grazie infinite Augusto e buona estate guardate